Live da Lanciano dove la squadra di AGSM Verona sta effettuando la seduta di rifinitura in vista del match contro la Pink Bari in programma domani nel capoluogo pugliese. Variazione di programma per la squadra giallo-blu costretta a raggiungere la Puglia in Pullman a causa dello sciopero generale dell'annullamento dei voli per Bari. Le giocatrici in maglia giallo-blu stanno effettuando l'allenamento di rifinitura a Lanciano e poi proseguiranno verso Bari dove giungeranno per la cena.